Ora una comunicazione che ci viene dall'ufficio amministrativo della Diocesi in seguito ad una ordinanza governativa che impone le necessarie verifiche sismiche degli edifici ecclesiastici, l'Arcidiocesi ha indetto un avviso di selezione per servizi di architettura e ingegneria. Gli iscritti ai rispettivi ordini professionali possono segnalare la loro disponibilità entro e non oltre le ore 12 di venerdì 8 giugno. Le indicazioni raccolte saranno utilizzate liberamente dagli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi per conferire gli incarichi professionali relativi alle verifiche sismiche. Maggiori informazioni presso il sito internet della Diocesi.